Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento ad alpinismo e shalpinismo di Jeff Wolski, ovvero il primo abbigliamento che ho l'opportunità di provare con la nuova membrana Pertex Shield Air. E adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della censione completa. Inizio subito andandovi a raccontare i nomi di questi capi, perché la collezione si chiama Jack Wolski a spitz, tre layer pants per i pantaloni e jacket per la giacca, naturalmente. Come dicevo, questa è la prima collezione che riesco a provare con la nuova membrana Pertex Shield Air. Faremo un video a parte sulla membrana in sé, però giusto per darvi un po' di indicazioni per come si comporta su questo abbigliamento, devo dire che è una membrana che ho trovato estremamente traspirante. Ho avuto modo di utilizzarla in delle giornate veramente molto calde, a inizio dicembre, quando ancora non era arrivato l'inverno, vero e proprio, e nonostante facesse caldo, riuscivo a utilizzare veramente bene la giacca perché era super traspirante. Naturalmente anche il pantalone è altrettanto traspirante, e devo dire che comunque per quanto riguarda la protezione da vento e acqua svolge un ottimo lavoro. Non ho avuto nessun problema da quel punto di vista. Poi, come dicevo, faremo un approfondimento proprio su questa membrana in un video a parte, proprio un video tecnico sulla membrana. Iniziamo dunque a parlare dal pantalone perché abbiamo un sacco di cose da dire. Il pantalone in sé è un pantalone hard shell, tre strati, con cuciture termosaldate. Troviamo una zip che arriva fino a metà dell'altezza del pantalone, infatti non riusciamo ad aprirlo completamente. Nella parte inferiore troviamo una ghetta da mettere attorno allo scarpone per evitare che entri della neve, ma manca il gancetto nel caso per attaccarla a un eventuale scarpone d'alpinismo. Troviamo poi nella parte bassa anche una piccola parte un pochino più resistente per andare a proteggerci nel caso dovessimo ramponarci da soli. Non troviamo delle tasche su questo pantalone. Le tasche non ci sono, ma vediamo poi anche il perché perché lo troviamo da un'altra parte. La parte superiore, vabbè, l'allacciatura anteriore è classica con due bottoni, la zip. E poi troviamo sui laterali la possibilità di andare a stringere il pantalone con una cintura già integrata. Se questo non dovesse bastare abbiamo poi anche la possibilità di mettere la cintura esterna classica perché ci sono i passanti. Come vi dicevo il pantalone non ha tasche. Questo perché insieme al pantalone troviamo anche una parte superiore, che non sono delle bratelli, non verrà proprio maglietta, c'è proprio una parte superiore. Io l'ho definita un corpetto perché ci assomiglia abbastanza. E questa qua serve sia per tenere su il pantalone, sia troviamo comunque anche delle tasche. Ne troviamo una nella parte destra completamente aperta, dove possiamo inserire qualche oggetto, e una nella parte sinistra in cui invece troviamo una zip che la chiude. Devo dire che questa parte superiore è molto traspirante perché comunque non è una parte arscella, è proprio un tessuto vero e proprio. È molto traspirante, abbastanza termica, però non va a sostituire un vero e proprio secondo strato. Io ho provato a utilizzare semplicemente un primo strato, questo qua sopra, questo corpetto sopra, e la giacca, e devo dire che non sono arrivato sotto zero. Quindi non è un vero e proprio secondo strato. È un qualcosa da mettersi su, che comunque aiuta, secondo me, un po' nella termicità, ma non è equiparabile a un secondo strato vero e proprio. Per quanto riguarda poi questo corpetto, ho trovato un po' di difficoltà a metterlo. Nel senso che la parte posteriore è collegata da una zip e la parte anteriore invece da dei semplici annellini da agganciare. Devo dire che quando lo mettiamo è un po' macchinoso, soprattutto perché dobbiamo prima mettere il pantalone e poi questo corpetto. Una volta messo dovremo andare a agganciarlo sia davanti che dietro e non è così semplice. Che dire, sicuramente una soluzione ingegnosa, non l'avevo mai provata così, ho provato delle bratelle ma non una parte superiore, vera e propria, ci può stare, ma magari l'avrei studiata un pochino meglio, sicuramente sull'allacciatura. Parlando invece della giacca, anche lei tre strati con vertex shield air, vale lo stesso principio di traspirabilità e impermeabilità. Per quanto riguarda le caratteristiche, innanzitutto troviamo una classica cerniera che la percorre a tutta altezza per poterla aprire, troviamo un'ulteriore cerniera nella parte di destra che va semplicemente ad aprire un po' la giacca in modo tale da farla traspirare ancora di più e non troviamo tasche. Su questa giacca mancano le tasche, o meglio, ne troviamo una nella parte di sinistra che non è una tasca, è un'apertura che ci permette di andare a sfruttare la parte interna, diciamo, del corpetto, perché sullo stesso punto troviamo la tasca chiusa a zip che abbiamo visto prima. Sinceramente non l'ho trovata così intuitiva, avrei preferito trovare una tasca vera e propria, perché se per esempio mettiamo su un secondo strato che non ha nessuna tasca, tutto il principio va a saltare, quindi avrei preferito una tasca vera e propria, che sicuramente sarebbe stata più efficace. Per quanto riguarda poi l'isolamento dall'aria abbiamo la chiusura sui polsini, classica, non troviamo una chiusura nella parte bassa con dei cordini da andare a tirare, questa la trovo un po' una mancanza perché è ok che c'è tutta la parte gommata all'interno che un pochino va a tenerla stretta attorno al corpo, ma non svolge lo stesso lavoro di un vero e proprio cordino che poteva essere utilizzato per andare a tirar la giacca e farla aderire. Questa mancanza personalmente la ritengo abbastanza importante perché soprattutto quando si fa sci-alpinismo e magari si va in neve veramente alta, ecco questo particolare può fare la differenza. Per quanto riguarda il cappuccio devo dire ottimo, sia sul cappuccio poi che sui pantaloni troviamo anche il riflettore recco per farci trovare, il cappuccio poi ha la sua chiusura posteriore per regolarlo in base alla testa e anche la classica visiera anteriore. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo abbigliamento a spizza di Jawoski. Innanzitutto parliamo del prezzo perché vengono venduti a 600€ il pantalone e 600€ la giacca. Ve lo consiglio sì e no. Sì perché la membrana che è stata utilizzata è stata veramente azzeccata, cioè la membrana è quel qualcosa in più che veramente mi va a dire, ve la consiglio perché è estremamente traspirante e se fate dello sci-alpinismo magari con tanto dislivello in cui state fuori per tante ore, vi assicuro una membrana così traspirante fa la differenza. Quindi per quanto riguarda la membrana sì, assolutamente questo abbigliamento ve lo consiglio. Il no invece riguarda tutte le cose che mancano, cioè mancano un po' di finiture, mancano un po' di caratteristiche, il prezzo poi secondo me è anche abbastanza alto perché comunque parliamo di 1200€ in totale. Quando sì va bene alla nuova membrana però il prezzo è abbastanza alto anche rispetto alla concorrenza, soprattutto diciamo che se volete acquistarlo dovete ascendere a dei compromessi sapendo che non avrete determinate feature e che magari andrete a spendere un pochino di più. Ma dal punto di vista invece della traspirabilità allora lì andrete ad acquistare un abbigliamento estremamente traspirante. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esaurante sostivo anche per questo video, vi ringrazio l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!